Domandino, il gioco che stai aspettando è anche una cosa che stai aspettando con un particolare hype? Penso di parlare a nome di tutti quando dico questo Parlo a nome di tutti quando dico questo Hanno detto che a febbraio daranno nuove info perché se questi lo show droppano a febbraio lo esplodo E allora Metal Face, dai leak dell'NVIDIA Geoforce sembra che dovrebbe uscire in febbraio Il che avrebbe senso perché due anni fa a febbraio era uscita la demo gameplay all'E3 o non mi ricordo che altra fiera, la Gamescom di Seligsong Due anni prima ancora era uscito Hollow Knight sempre in febbraio, quindi febbraio 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 avrebbe senso Secondo me tipo ce lo diremmo tipo un mese prima Allora se c'è un Nintendo Direct da qui a febbraio tendiamo le orecchie Allora se c'è un Nintendo Direct da qui a febbraio tendiamo le orecchie